Più vita agli anni, questo è il titolo del convegno che abbiamo avuto l'opportunità, possiamo dire tranquillamente la fortuna di seguire nella sua interezza, il benessere dell'uomo in andropausa, un momento di incontro organizzato dall'associazione 50i più e da terziario donna afferenti a Confcommercio e da benessere in andropausa di Stella Scarpa. Un convegno davvero bello, un convegno entusiasmante perché ha dimostrato quanto la trasversalità, la comunione di intenti possa ottenere dei grandi risultati. Per i nostri 320.000 iscritti in Italia e quasi 4.000 nella provincia di Pesaro organizziamo eventi di questo genere proprio per divulgare e informare i nostri associati su tematiche che hanno una rilevanza. Essendo noi ultracinquantenni è chiaro che tutte le problematiche relative all'andropausa rientrano tra le tematiche che sono di un certo interesse per la nostra platea. Indubbiamente è un argomento quello dell'ipogonadismo nell'anziano di estremo interesse, è un qualcosa ancora di non perfettamente definito, nel senso che noi siamo oramai coscienti che col passare degli anni i livelli di testosterone prodotti dalla gonade maschile tendono a diminuire. È vero che se vogliamo fare un paragone così speculare con quello che succede nella donna, questo non è assolutamente paragonabile, nel senso che la funzione testicolare non cessa, così nell'arco di uno o due anni come succede alla donna praticamente, cioè l'andropausa intesa come immagine speculare della menopausa non esiste, però esiste sicuramente un calo della produzione di testosterone. Per noi è fondamentale far passare un determinato concetto, cioè quindi apportiamo vita agli anni e meno possibile anni alla vita. Sappiamo che il 70% del nostro invecchiamento è influenzato da singole scelte proprio predisposte dall'individuo, quindi siamo noi i protagonisti della nostra salute, il 30% soltanto c'entra la genetica. Questo cosa vuol dire? Che se noi non portiamo l'utente a conoscenza di quali possono essere gli stimoli giusti da intraprendere nel nostro quotidiano e professare un giusto e corretto e in linea con quello che stiamo proclamando anche stesso oggi di stile di vita consapevole, non possiamo arrivare a questo nostro importante focus.